Buongiorno a tutti. La nostra provincia, l'Italia, tutto il nostro paese è soggetto a un'emergenza sanitaria di notevole importanza. Cerchiamo di aiutare anche con un piccolo contributo tutti i nostri ospedali, l'ospedale di Alessandria nel quale io opero da più di 30 anni. Chiediamo un piccolo contributo. Questi sono i riferimenti a quale potete rivolgere.